Un tumore è una massa di cellule anormali che si sviluppano in modo incontrollato nel corpo umano. Queste cellule tumorali differiscono dalle normali cellule del corpo e possono invadere i tessuti circostanti o diffondersi in altre parti del corpo. Esistono due tipi principali di tumori, i tumori benigni e i tumori maligni. I tumori benigni non sono cancerosi e non si diffondono ad altre parti del corpo, mentre i tumori maligni, noti come cancro, possono diffondersi attraverso il sangue o il sistema linfatico. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo due secondi del tuo tempo per chiederti di mettere un mi piace e di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. Inoltre una parte del ricavato dei proventi che arriverà da questi video sarà destinata al progetto Piantalend, boschi di benessere in Italia. Sostienici, informiamo e miglioriamo anche l'ambiente che ci circonda. I sintomi dei tumori possono variare a seconda del tipo e della posizione del tumore. Alcuni dei sintomi comuni includono la perdita di peso involontaria, la fatica persistente, la presenza di una massa o un nodulo palpabile, sanguinamento anomalo, dolore persistente, cambiamenti nell'appetito e nell'aspetto della pelle. Tuttavia, è importante notare che molti di questi sintomi possono anche essere causati da altre condizioni non correlate ai tumori. Pertanto, se si sospetta un problema, è fondamentale consultare un medico per una valutazione accurata. Per quanto riguarda i trattamenti dei tumori, esistono diverse opzioni disponibili. Il trattamento dipende da vari fattori, come il tipo, la dimensione, la localizzazione e lo del tumore, nonché le condizioni generali del paziente. Le opzioni di trattamento comuni includono la chirurgia, la radioterapia, la chemioterapia, l'immunoterapia e la terapia mirata. La chirurgia viene spesso utilizzata per rimuovere il tumore dal corpo, mentre la radioterapia mira a distruggere le cellule tumorali attraverso l'uso di radiazioni. La chemioterapia, l'immunoterapia e la terapia mirata sono altre opzioni che possono essere utilizzate in base al tipo di tumore e alla sua risposta ai trattamenti. In conclusione, la diagnosi precoce e il trattamento tempestivo dei tumori sono cruciali per una migliore prognosi. È fondamentale prestare attenzione ai sintomi sospetti e consultare un medico per una valutazione approfondita. È importante anche adottare uno stile di vita sano, evitare l'esposizione a sostanze nocive e sottoporsi a screening regolari, dove appropriato, per la rilevazione precoce dei tumori. La ricerca continua nello sviluppo di nuove terapie e trattamenti per i tumori, offrendo sempre più opzioni ai pazienti e aumentando le possibilità di guarigione. Stai cercando l'oncologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di UMA Innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di UMA Innovation. Se sei un dottore specializzato, puoi partecipare al nostro progetto, vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!